Un cordiale saluto amici amiche di Telemolise, bentornati all'appuntamento col meteo. Insiste un ciclone all'estremo sud che porta ancora nudi fraggi tra la Calabria e la Sicilia. Fortunatamente nelle prossime ore l'alta pressione si rinforzerà ovunque su gran parte d'Italia, quindi porterà ad un miglioramento del tempo, pressoché ovunque. Per quanto riguarda questo sabato, in Molise è una giornata molto più stabile rispetto alle precedenti, anche leggermente meno fredda. Notate le massime che si porteranno a ridosso degli 8-10 gradi, ma farà ancora molto freddo di notte a causa dell'irraggiamento notturno, piuttosto vistoso negli aree interne, minima anche fino a meno 2 gradi su Campobasso, 4 gradi appena. Sulle coste, ma comunque nelle conche, nelle valli, le temperature potrebbero scendere anche di parecchi gradi al di sotto dello zero. Il cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Con questo concluso noi ci rivediamo nel prossimo aggiornamento. Grazie.